Giovedì 21 gennaio partirà la prima edizione di Cioc, la prima fiera del cioccolato dei maestri cioccolatieri che si svolge a Vercelli partendo appunto da giovedì 21 fino a domenica 24 gennaio. L'area di svolgimento della manifestazione sarà l'intera via Veneto e il tratto di Corso Libertà all'intersezione con la via Veneto. Parteciperanno all'edizione, a questa prima edizione, circa una ventina di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia con un'offerta che sarà la più ampia possibile. Ovviamente il protagonista in discusso è il cioccolato in tutte le possibili declinazioni. All'evento parteciperà anche Sweet Joy che è forse l'unica realtà vercellese di K-Design. Quindi parteciperà con dei laboratori dedicati ai bambini e con alcune degustazioni. Nell'ambito della manifestazione, giovedì e venerdì mattina, con partenza alle 9 e termine 9, 10, 11 e poi il pomeriggio 14, 15 e 16, i maestri cioccolatieri faranno dei laboratori, delle vere e proprie scuole di cioccolato per tutti i bambini. Scuole di cioccolato che peraltro sono comunque aperte anche agli adulti. Quindi nelle giornate di sabato e di domenica anche per gli adulti sarà possibile assistere e magari cimentarsi anche nella preparazione e nella lavorazione di dolci al cioccolato. Sempre nell'ambito della manifestazione, ospiti, Broken Egg, i Pagliacci nel Cuore e lo Ziggo Zago. Sabato, queste tre associazioni che ormai per noi sono quasi tradizionali invitare ad ogni evento, dedicheranno un'intera area all'interno della manifestazione per i bambini. Un'area gioco, un'area di truccabimbi, un'area di divertimento, naturalmente sempre tutto all'insegna del cioccolato. E i musei stessi, il Museo Leone, il Tesoro dell'Uomo, il Borgogna e il MAC, nelle giornate di giovedì 21 e di venerdì 22, saranno aperti per visite guidate completamente gratuite per gruppi di bambini. Quindi abbiamo già invitato parecchie scolaresche, alcune di loro hanno già anche aderito all'iniziativa. Le scolaresche stesse, quindi oltre a partecipare all'iniziativa collaboratori di cioccolato e visite ai musei, hanno sollecitato e invitato i propri alunni alla preparazione, all'ideazione di elaborati, sempre sul tema del cioccolato. Ne stanno arrivando veramente tantissimi e saranno visibili in tutti i negozi del centro storico, che a partire da giovedì 21 fino a domenica 24 creeranno un angolino nella propria vetrina per l'esposizione di questi disegni. Al termine dell'evento il disegno, l'elaborato che sarà ritenuto migliore, riceverà un premio ovviamente di cioccolato, anche questo. Sempre nell'ambito dell'evento c'è la possibilità di poter, per tutti i visitatori, di poter trascorrere una serata o un pranzo in uno dei ristoranti tipici che hanno aderito al circuito www.panissa.it e che nell'ambito di queste quattro giornate propongono a prezzo convenzionato un menu a base di cioccolato, o quantomeno dove il cioccolato costituisce il protagonista. L'elenco dei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa, ce ne sono tantissimi, non li cito ovviamente, anche perché altri si stanno ancora aggiungendo. Comunque l'elenco completo, il menu e i prezzi sono tutti visibili sul sito www.panissa.it.